Sono accusati di tentata estorsione nei confronti di un imprenditore, Andrea Diego Cutuli di 26 anni e Alfio Concetto Saitta di 29, entrambi arrestati a Catania dalla polizia. Per lo stesso reato e nell'ambito della stessa inchiesta, nei giorni scorsi, erano già stati arrestati Salvatore Cosimo Scuto di 47 anni e Giovanni Papa di 32. La svolta nell'inchiesta, culminata con gli arresti, risiede nelle minacce e nelle lesioni che sarebbero state subite da un imprenditore del settore del noleggio mezzi, in seguito alle dimissioni di un suo ex dipendente. I quattro, secondo quanto accertato dall'inchiesta, avrebbero preteso una somma di gran lunga superiore di quella aspettante come trattamento di fine rapporto, di circa 11.000 euro. Le indagini, ha precisato la polizia, sono state avviate da una notizia appresa in modo informale. Sulla scorta di quanto appreso, è stata avviata una mirata attività investigativa, anche di tipo tecnico, coordinata dalla procura distrettuale della Repubblica di Catania, durante la quale sono stati controllati anche alcuni appartamenti in cui l'ex dipendente, spalleggiato da altri soggetti, secondo gli investigatori, intimava la vittima con modi e frasi minacciose di provvedere al pagamento di quanto richiesto.